3 milioni di euro per difendere il Valdarno dall'acqua. E' questo l'investimento che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sta traducendo in manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico della vallata perché possa sopportare meglio anche i fenomeni estremi che un clima ormai impazzito rende sempre più frequenti e violenti. Partiremo dai centri abitati principalmente quindi dal fondo valle e la manutenzione chiaramente interesserà anche alcune zone delle aree montane per evitare le ripercussioni a valle delle fragilità che si possono riscontrare a monte. Sotto i ferri 260 chilometri di aste fluviali, torrenti, borri e fossi e poi lui il fiume principale della vallata, l'Arno. 33 chilometri soltanto l'asta fluviale dell'Arno che comprende quasi l'intero tratto da Levane a Rosano in gestione al Consorzio 2.